Bella ragazzi, oggi siamo qui in un nuovo video, cercheremo, cercheremo, cercherò di spiegarvi come funziona Tempio dello Zodiaco, anche se è stato preso da una live già fatta, ringrazio tutta la gilda dei Moghenry che hanno partecipato durante la live e che comunque mi hanno aiutato loro principalmente a scalare, vi proverò a spiegare come funziona e che cosa si troppa, passiamo alle immagini. Ok, eccoci qui, allora, come potete vedere ci siamo già teleportati dentro Tempio dello Zodiaco, come potete vedere si parte con 24 prismi, non più 36, quindi ogni ingresso nello Zodiaco vi consuma i prismi, questi prismi servono come un biglietto per partecipare allo Zodiaco, si ricaricano ogni tot tempo e niente. L'unica cosa in più che si può legare al Tempio dello Zodiaco, ai prismi, è che se si riesce ad arrivare al piano quarantesimo c'è la possibilità di comprare una pergamena che vi permetterà di ricevere prismi aggiuntivi senza aspettare il tempo. Allora, come potete vedere c'è un timer, qui in alto a destra c'è un timer che se riuscite a completare il piano, quindi sconfiggi il boss dello Zodiaco senza morire, vi permette di passare dal piano 6, che è quello sotto, che c'è il piano dove state, al piano 7. Abbiamo fatto subito un salto dal piano 1 al piano 6 distruggendo le metin velocemente. Come bonus consigliati per affrontare il Tempio dello Zodiaco principalmente c'è res, danni e abilità, resistenza alla caduta che si trova solo sul talismano. Ovviamente se fate uno Zodiaco come questo, lampo, se avete il talismano lampo vi permette di fare più danno e ovviamente se avete la ruota dell'alchimia anche quello influisce. Allora, come potete vedere questo boss è quasi già distrutto, le immagini sono un po' velocizzate per permettere al video di essere un po' più fluibile. Siamo passati al piano 7, questo è un piano bonus, tra virgolette, come c'è scritto qui, che da quello che stiamo studiando vi potrebbe permettere di capire la combinazione finale che vi porta al piano 40. Quindi ci sono due metin da distruggere, scimmia e cane, e in base a quella che distruggete, se è quella giusta, vi dà delle ricompense. Quindi, una cosa che non ho ancora detto, in pratica ogni volta che si sale di piano vi vengono date delle apposite... Ok, mi sono documentato, ogni piano che si va a superare si droppano delle insegne. Le insegne sono divise in insegne con le immagini degli animali o con gli ideogrammi giapponesi. Queste due dopo vi permetteranno di trasformarle o in fiori elementari che servono per migliorare i talismani, oppure per prendere dei gofanetti rossi o blu, dipende da quale insegne andiamo a trasformare, che vi permettono di migliorare le corazze del 105 e le armi del 105. Oltre a questo, non vi ho detto che in questa mappa, in questo dungeon, se si muore c'è la necessità di rinascere tramite i prismi del risveglio, che si droppano... no, si droppano, si ricevano sotto la missione che si fa in Zodiaco, uccidendolo i metting di tipo... distruggendo le metting di tipo toro... o topo, scusate. E oltre a questo c'è la possibilità di prendere 200 prismi del risveglio dall'ultimo piano, dal quarantesimo piano, quindi quello bonus. Come potete vedere qui in basso c'è la... ci sono gli ideogrammi... gli insegni con gli ideogrammi sopra, quindi sono quelli che ti permettono di fare i gofanetti blu. E in poche parole adesso stiamo distruggendo prima i metting per poi affrontare il boss. In poche parole questi metting spawnano parecchi mostri, quindi come bonus consigliato converrebbe utilizzare blocco, quindi potrebbe essere utile avereci parecchio blocco. E a parte questo... tanto danno cavalcature che danno valore d'attacco, forte contro mostri, dipende insomma da quello che avete. Quindi arrivati a questo punto il boss l'abbiamo quasi distrutto, non è l'ultimo boss, comunque è uno del piano 13. In poche parole voi adesso magari starete pensando, beh, quindi si droppano solo i gofanetti rossi in segni che ti permettono di fare i gofanetti e roba del genere. No, c'è anche la possibilità di trovare le armi del 105, quindi alla fine ci sono parecchie cose interessanti. Vi faremo vedere alla fine del video che c'è un forziere, che poi metterò a schermo comunque le varie informazioni relative al drop da quel forziere. Comunque adesso siamo arrivati a questo piano che è abbastanza semplice. C'è questa statua che subisce massimo 1 come danno. Ogni tot danno che subisce, quindi ogni percentuale, ogni 5% credo, fa cadere delle medin. In poche parole, arrivate al numero di 10 medin sulla mappa, quindi sono cadute 10 medin, possiamo staccarci dalla statua e andare a distruggere i medin che non fanno uscire mostri né niente. Quindi questo è il cosiddetto piano cesso, quindi non c'è granché da fare. Quindi andiamo avanti, vediamo un po' che succede. Io intanto faccio vedere la luna più 9 in live, la stola che ho fatto grazie al tempio dello zodiaco. E niente. Ok, passati al quindicesimo piano, c'è da sconfiggere 100 mostri, tra cui anche il boss. Ma ci sono dei mostri oltre il boss che se si uccidono fanno cadere dei medin. Quindi adesso io sto distraendo il boss perché intanto dà solo fastidio, ti esposta, fa da impici. E i ragazzi hanno distrutto il medin che ci ha permesso di arrivare a 100 mostri distrutti. Allora, invece in questo piano, che è il ventesimo, dobbiamo uccidere 5 boss dello zodiaco. Che a sto giro escono dai medin, dai medin bufalo se non sbaglio. I topo non fanno spawnare i boss. Prima si uccidono questi mostri, se no attaccano le sciamane e cose varie. Quindi, fatti questi, si prova a distruggere più medin, no più medin possibile. Comunque si cerca di far uscire più boss possibili dai medin, anche se dipende tutto dal fattore C. Quindi, primo medin distrutto, già 3 boss dello zodiaco sono andati a quel paese. Ma vediamo un po' come vanno avanti i ragazzi. Comunque se vi chiedete perché sto con la corazza leone, è perché c'ha 15 lampo, quindi può aiutarmi. Faccio vedere pure la stola da nabbo che c'ho. Secondo medin sono usciti gli altri 3 boss, ma provo ad andare a dare una mano ai ragazzi. Però ho beccato il medin sbagliato, volevo provare a essere utile e invece niente. Hanno fatto da soli. Tanto il bot che continua a spammare di scioppare Young. Arrivati al livello ventunesimo, è un altro piano bonus. Insieme a quello di prima del piano bonus potrebbe aiutarvi a capire la combinazione da fare dal 36 fino al 40. Adesso sconfiggi i boss dello zodiaco. Diciamo che ci sono due tipi di boss dello zodiaco, quelli dorati e quelli neri. Come potete vedere questo è quello nero, è un po' più facile da regge anche se io sono scarzone e non lo reggo benissimo. Però non mi ammazza brutalmente, insomma. Ammazzati sti 4 boss si passa al 27esimo piano. Molto easy questo piano. I più tosti da affrontare sono quelli che bisogna distruggere 8 medin. Se non sbaglio ci dovrebbe stare un piano di quelli. Vediamo un po', così vi spiego l'interezza a tutto il dungeon. Adesso saltiamo al 27esimo piano, dai dai. Missione completata, 27esimo piano. Sconfiggi tutti i mostri. Qua bisogna semplicemente uccidere tutto. E penso pure i medin se non sbaglio. Sì, penso proprio di sì. Comunque scusate se ci sta su schermo aiutami a scioppare o roba del genere. Però è legato alla live quindi quello non si può allevare. Quindi non odiatemi per questo. Allora. Vabbè, facciamo un piccolo salto. Ok, eccoci. Ora, come dicevo, distruggiamo anche i medin. Da questi medin, come vi ho già detto, potrebbero cadere altri medin. Sia da alcuni mob, sia da alcuni medin escono altri medin. Quindi serve... questa cosa è fatta apposta un po' per farvi perdere la concentrazione sul medin giusto che era da distruggere. Qui c'è un altro piano cesso, quindi andiamo avanti anche qui. Siamo passati adesso al ventinovesimo piano perché abbiamo distrutto tutti i medin e quant'altro. Allora, sconfiggi cinque boss dello zodiaco. Adesso siamo a quel punto dove ci stanno i mostri che se li uccidi fanno cadere dei medin. Quindi, ammazziamo sti scemi. Cercamo di rimanere uniti per ucciderli un po', nel senso, fa tanto danno tutti insieme. Poi ci spostiamo leggermente per non far cadere i medin tutti nello stesso punto perché se no potrebbe essere un problema. Quindi... È fatto cadere un medin. A sto giro ci si è messo direttamente sopra perché questo è il piano dei boss e non quello dei medin. Se c'era da distruggere parecchi medin, conveniva continuare ad attaccare i mostri iniziali per far cadere altri medin. Comunque, come potete vedere, abbiamo già fatto il primo boss, sono caduti altri medin. Da quest'altro medin che ha iniziato Alberto è uscito un altro boss. Ora vediamo quanti ne escono. Io mi metto a fare da segnalino per il medin che hanno già iniziato perché non hanno iniziato i due contemporaneamente. Quindi io rimango qua per fare da segnalino, insomma, perché poi gli è caduto un altro medin a fianco. Quindi con tutti questi bufalotti potresti confondere. Eccoli che arrivano carichi come non mai. E proprio fa finta di fare qualcosa di utile. Doppio boss da sto medin. Io mi sdraio violentemente e moriamo tutti. Non perché sono morto io, ma perché c'erano parecchi boss sul medin. Quindi era un problema. Comunque il medin era praticamente morto. Siamo riusciti a salire. Mi sono rianimato, come avete visto, con le sfere... No, con le sfere. Con i prismi del risveglio. Adesso in questo piano è il trentaduesimo. È simile all'ultimo, se non sbaglio. L'ultimo piano dove c'è da fare qualcosa di... Reale, insomma. Non solo distruggi un medin che non esce né boss né niente. Qua bisogna distruggere tutti i medin. Come al solito. Vediamo un po', vediamo un po'. Comunque, in poche parole, ve lo dico anche a voce. Da questi... Dal Tempio dello Zodio che escono, quindi... Armi del 105 per ogni classe. Quindi pugnali, arco, spada, spadone... Spada da Sura pure, dedicata apposta per Sura, campana della sciamana, ventaglio della sciamana, esce di tutto. Non so se c'è il ventaglio in realtà. E a parte questo, escono le stole di un per cento dei parecchi tipi che sono comunque legati più o meno ai boss che si trovano nello Zodio. Perché hanno ognuno una sorta di stola dietro la schiena diversa. E quindi sono ispirati ai vari boss. Poi con le stole un per cento, sapete già come funziona. Ne aggiungi una con due stole un per cento, ne fai una cinque per cento e così via fino a su misura. Quindi c'è rimasto poco da fare. L'ultimi 4 metri in topo, anzi gli ultimi due, perché li abbiamo già spaccati. Comunque sti dragoni offerti dal gentilissimo Davide. Che ci ha fatto la skin sui cinghiali a tutti, praticamente, del drago. E ecco fatto che andiamo al piano 33. No, sì, al piano 33. Ok. No, è questo che è simile a quello del boss. C'è il boss che va in giro. Che deve essere spostato. Si distrugge il mating bufalo del 130. Ecco che escono i boss e io scappo perché sono un cacasotto e ho paura di morire. Non aspetto che sta in difficoltà e gli do il cambio. È morto, infatti. Niente cambio. Muoio anch'io. Comunque penso che vi siete accorti che c'è differenza tra quelli neri del boss dello zodiaco e quelli dorati, insomma. Comunque questi... Ah, comunque al 34 ti permette. Al 33. Boh, non lo so. Mi sono un attimo perso. Comunque, quando... No, questo è il boss che non c'ha il cannone. Ok. Al 33 potrebbe capitare sta cosa. Quindi un piano equivalente al 34, però senza l'aiuto del cannone. Che poi vi spiegheremo appena arriviamo... Vabbè, questa parte ve la taglio, quella del boss, insomma. Secondo. Ok. Un'altra cosa che dimenticavo di dirvi è che ogni volta che si muore si va a consumare un numero maggiore di prismi. La prima volta uno, la seconda due, quattro, otto, dieci. E il dieci è il massimo. Comunque, un'altra cosa importante è che a questo piano, quindi il 33esimo, se non si uccide il boss principale prima di cinque minuti ne compare un altro che non subisce danno e serve solo a da fastidio. E oltre a questo, al quinto minuto esce pure un altro Medin Bufalo da distruggere e che dopo ti permetterà di attaccare il boss originale e quindi ucciderlo e salire al piano successivo. Quindi stanno cercando di distruggere il Medin. Nel frattempo io cazzeggio con questo... il boss finto, diciamo. Il fake boss. E arrivati a questo punto si... No, ancora non è distrutto il Medin. Perfetto. Wow. Un secondo... E vi riporto direttamente al piano 34 perché comunque è rimasto veramente poco. Facciamo un altro taglio. Ho praticamente girato tutto il tempo per non farmi uccidere dal boss. Nel frattempo gli altri facevano danno su quello giusto. Il boss finto si è arrabbiato perché voleva difendere il suo amico ma muoiono entrambi. Quindi adesso finalmente si sale al piano 34 dove appena si sale io cerco di difendere i mostri al muro e i ragazzi invece cercano di distruggere un Medin per far comparire il boss da uccidere e il cannone che tanto dicevo prima che è molto importante. Adesso vi faccio vedere un po' come va. Aspettate un secondo. Questa parte finale non l'ho velocizzata perché sono un pollo. Quindi il Medin distrutto è comparso il cannone. Piccola cosa interessante da sapere, a parte che il boss si è andato a riprendere con una persona che non c'entrava niente e che stava al muro a scroccare. Il cannone subisce danno come la statua, però se il cannone viene calpestato dal boss si distrugge e quindi non fa danno. Fa danno perché se si distrugge il cannone, se si prende a spadate il cannone, a una certa spara e colpisce il boss e gli fa 10% di vita. Quindi non male direi. Adesso quindi io e Angelo stiamo belli tranquilli, anche se il boss non si sa per quale motivo si è spostato, ma perché sono crashati i miei due amici potentissimi, Alberto e Giovanni, che si fanno il boss. Loro solo tankano loro e fanno un po' di danno in più e noi, io e Angelo ci facciamo solamente i così, i cannoni. Ok, è tornato a Zarin, anche detto Alberto, si sta tankando il boss. Io vado del qua e del là, è comparso l'altro, spawna ogni minuto se non sbaglio, eh sì, il boss è il cannone, in modo tale da permetterti di farci il 100% dei danni perché hai 10 minuti per affrontare il piano, quindi se non ti fanno il boss, non si distrugge nemmeno un cannone, si potrebbe riuscire a fare completamente il boss portandolo solo in giro e non farlo camminare sui cannoni, insomma. Quindi, niente, adesso non vi faccio vedere che uccido il boss perché intanto non faccio niente, io prendo a spada del cannone perché sono scarso e unskilled. No, non ho solamente l'equip, quindi ci becchiamo tra pochissimo, wow. Ok, siamo arrivati all'ultima cannonata e muore, ecco il cannone. Il boss si muove velocissimamente perché stiamo leggermente velocizzati per far prima e non fa un video lunghissimo. Loro scappano perché intanto è morto, boom, cannonata e si sale. Avrebbero voluto distruggerlo perché... Ah, a proposito, ecco il forziere che vi dicevo, questo è il forziere che vi permette di trovare l'arma e la stola, insomma. Adesso stiamo cercando di salire al quarantesimo piano, non ricordo se ci siamo arrivati in questa scalata del zodiaco. Questo piano abbiamo distrutto il medin giusto, qua anche perché vi manca pochissimo per concludere il piano bonus. Distruggi un altro medin. Vi manca ancora pochissimo, quindi abbiamo azzeccato. Quindi altre due o tre medin distrutti così e si... Ecco, no, missione conclusa. Non abbiamo distrutto il medin giusto e quindi ci porta giù. Quindi adesso vediamo se... No, non è vero, bugia. Bugia, bugia. Cioè, non è stata scalata conclusa, ho letto male. Sono indecisi su quale spaccare. Ah, anzi, abbiamo fatto addirittura il sondaggio. Ah, ok, allora, adesso ricordo. Comunque avete scelto voi, se non sbaglio, e siamo scesi comunque. Il pull, come al solito, ho messo a schermo. Scimmia, cane, avete votati tutti i scimmia. Abbiamo distrutto la scimmia, ma mi pare che non siamo riusciti a salire. Poi magari mi sbaglio. Intanto qualcuno che si rompe per il più nove. Grazie mille per essere fallito per il più nove. Hilm, Patrus, tre. Vediamo. Metin scimmia. Votati in... Cinque voti? No. Ah, dieci voti totali hanno fatto. Minchia. Due persone solo hanno votato cane. Dai, su, distruggiamo sto metin. Steph994 si è rotto per il più nove. Grazie mille. Spero che stai guardando questo video. Dai, tutta questa indecisione. Ah, lo voglio... Se non sbaglio, lo distruggiamo con le skill. Tutti a skillarlo brutalmente. La pazzia, la pazzia. Disibilare io. Ignoranza. Padrongodo... Rongodo? Padro... 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 Gondrodo. Ma che cazzo? Siamo arrivati al quarantesimo invece. Ok, almeno vi faccio vedere le cose. Calmi, calmi. Questi in alto a sinistra sono i prismi. Queste sono le cassette che ti permettono di aggiungere sesto e settimo. Questa è la pergamena che vi dicevo del... Che vi permette di recuperare i punti per fare scavate. E qua ci stanno tutte le insegne con le facce degli animali. E qua gli diogrammi che non prendo e non shoppo. Perché costano un po' e quanto ci ricaveresti è veramente poco. Bella raga, sono felicissimo che siete arrivati a questo punto del video. Vi ricordo che comunque sono una persona abbastanza disponibile. Quindi vi invito a scrivermi su Instagram, su Discord, scrivermi nei commenti. Anche se può risultare difficile sia per voi di avere la notifica della risposta, sia per me della stessa cosa. Quindi è un po' complicato. Però qualsiasi dubbio, qualsiasi informazione chiedetemla. E ovviamente vi invito a lasciare un like per supportare il canale. E farmi capire che i contenuti vi sono utili o almeno vi piacciono. Vi invito a passare domenica 29 alle 22 per seguire la live dove vi regalo un po' di guon. Se avete dubbi anche su quello scrivetemi, contattatemi, siete liberissimi e io vi risponderò sicuramente. Bella, alla prossima!